Il sindaco, no, no, l'importante per Cerea non è Salvini, è il sindaco. Mi ha chiesto ieri un giornalista dove vai a fare il ponte il 2 giugno, a Cerea. Cosa di meglio che andare a fare il ponte Cerea, Padova, Belluno. Però domani mattina parto da Lignano-Sabbiadoro, quindi almeno il mare lo vedo e spero di non avere l'intesa ventura del sindaco, quindi lo vedo da lontano e non mi ci avvicino. Grazie, sì, è un momento in cui occorre esserci, metterci la faccia, aver coraggio, a testa alta. C'è una guerra in corso, ma una guerra in corso non è solo quella che vediamo in televisione guardando il Tg1 o il Tg5 la sera, perché poi la guerra in corso fa danni là, fa morti là. Però i problemi li porta in questo supermercato, perché se aumentano la luce, il gas, la benzina, se andiamo avanti così, pensare alla benzina a 3 euro al litro, non è fantascienza. Guardiamo l'aumento dei prezzi del pane, della frutta, della verdura, della carne. Siamo fuori da un supermercato, io parlo con le cassiere, chiedo ma nel carrello c'è la roba di prima oppure dopo questi mesi di guerra sta cambiando qualcosa? Cambia. Perché ovviamente se hai un figlio, se hai due figli, se hai la pensione ferma, se hai lo stipendio fermo, magari invece di un certo tipo di carne rossa prendi la carne bianca, invece di un certo tipo di affettati prendi un altro tipo di affettati e dai un occhio sulle date di scadenza e quando vai a far benzina ti fa il segno della croce, perché io ero in autostrada, ormai hai risuperato i 2 euro al litro. Ma tenete presente che non è il prezzo vero, perché ci sono i 25 centesimi di sconto che il governo ha applicato su richiesta della Lega e lo sconto ai primi di luglio salta. Quindi oggi la benzina sarebbe 2,30 euro al litro. Quindi chiedere la pace, lavorare per la pace dovrebbe essere obbligatorio per tutti e mi fanno pena coi miei colleghi politici che parlano solo di armi e di guerra. Noi dovremmo essere tutti al lavoro, mattina e sera per la pace. Parlavo di Cerea di qualche anno fa, non sapevo, confesso la mia ignoranza da milanese e da lombardo che fosse una delle capitali del mobile, dell'artigianato. Poi guardi i capannoni, affittasi, vendesi. Quindi la priorità per l'Italia, per Cerea come per tutta Italia, è il lavoro. E tornare in una condizione di pace dopo due anni di pandemia è fondamentale per il lavoro. Altrimenti gas, luce, diesel. Un altro tema a proposito di pace. Noi stiamo lavorando. Mi hanno insultato per 4-5 giorni perché stavo lavorando per la pace. Sì, a testa alta. Se devi chiedere di fermare la guerra, a chi lo chiedi? A chi la guerra l'ha cominciata? Se i russi non vogliono parlare con Di Maio perché non ci si fidano, ma vogliono parlare con qualcun altro, è mio dovere parlare con chiunque pur di arrivare a fermare la guerra. Altro che insulti. E la pace economica in Italia però si chiama pace fiscale. perché i dati dicono che dopo due anni di pandemia le cartelle di Equitalia, poi vengono dal sindaco giustamente se qualcuno ha un problema, sono ormai, pensate che numero, 140 milioni di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate. 140 milioni. In Italia si è 60 milioni. Quindi più di due a testa. Quindi io l'ho chiesto al Presidente Draghi, il PD dice di no. Però io mi domando con che senso dice di no. Pace fiscale, rottamazione delle cartelle esattoriali, altrimenti la gente non ce la fa pagare e muore di fame. Quindi tornare a uno Stato, a un rapporto fiscale equo, normale. Ci aggiungiamo alla battaglia che io spero, non voglio peccare di ottimismo, però prima della pausa estiva in Parlamento abbiamo chiesto come Lega che il Consiglio dei Ministri dia il suo ok al progetto di legge sull'autonomia perché si è perso anche troppo tempo. E quindi sperando che anche lì i 10 e 5 stelle non la tirino in lunga, ma pensate che questi hanno le priorità. Io le priorità le dico. Pace, taglio delle tasse, pace fiscale, autonomia. Le priorità del PD sono, io non so in paese come vadano a parlare, però il DDL Zan, lo Iusoli, il cambio della legge elettorale, ma chi se ne strafrega del cambio della legge elettorale. Poi leggi le cronache veronesi, leggi a Peschiera del Garda, oggi leggi sul giornale, scontro fra bande di stranieri in spiaggia e la polizia in assetto antisommossa deve caricare in spiaggia perché questi se li davano a sprangate di ferro a Peschiera del Garda all'inizio dell'estate 2022. Rimettiamo i piedi per terra ripartendo dagli uomini più importanti e dalle donne più importanti per la lega, che non sono i segretari, non sono gli europarlamentari, non sono i consiglieri regionali, ma sono i sindaci. Perché i sindaci sono la presenza più importante sul territorio, quindi ti faccio in bocca al lupo. Squadra che vince non si cambia. Il 12 sera sarò incollegato, votano 974 comuni in Italia, uno dei primi di cui vado a controllare l'affluenza e il referendum, la percentuale della lega, è il comune di Cerea. Quindi in bocca al lupo sindaco e grazie a voi per essere qua così tanti un venerdì mattina di giugno. Buona vita, buona fortuna, viva la lega e viva la pace. Grazie.